La Lega Nazionale di Lettanti e Federlab Italia hanno siglato un protocollo per tamponi e test a tutti i tesserati della LND, un accordo senza precedenti nel calcio italiano per numero di società e tesserati coinvolti. Secondo la Convenzione, il costo unitario dei test antigenici sarà di 9,50 euro, mentre quello dei tamponi molecolari sarà di circa 30 euro. Federlab Italia riunisce strutture sanitarie associate che metteranno a disposizione delle società le proprie competenze tecnico-organizzative e soprattutto personale specializzato e qualificato per l'esecuzione degli esami di laboratorio. Il prelievo di materiale biologico sarà gratuito qualora ad occuparsene sarà il medico sociale della singola società. In caso invece di coinvolgimento di personale medico o paramedico esterno, i costi previsti a carico del club ammontano a 40 euro per seduta di prelievo, indipendentemente dal numero di prelievi effettuati. Quello con Federlab rappresenta un accordo che prima di tutto garantirà il proseguo del campionato di Serie D e delle altre competizioni nazionali in assoluta sicurezza, affirma soddisfatto Cosimo Sibilia. Questa convenzione assicurerà una riduzione sostanziale dell'impegno economico che i nostri club sarebbero stati chiamati obbligatoriamente a sostenere per rispettare le disposizioni sanitarie legate al Covid-19.